In questo video oggi vediamo come realizzare questo bellissimo Babbo Natale chiamato Loggabin perché utilizziamo la tecnica del Loggabin per cucire tutte queste strisce tra loro e ottenere così l'effetto del vestito di Babbo Natale a cui poi aggiungiamo la parte del cappello, gli occhietti, la prima striscia della barba e poi un gancio per poter utilizzare facilmente la nostra decorazione Il retro è cuscito con un filo o sottile, appunto nascosto, oppure con un filo un po' più grande per realizzare una decorazione che si possa vedere, quindi una cucitura decorativa Potete sbizzarirvi con questi Babbo Natale Loggabin come volete utilizzando le stoffine natalizie che avete a casa È un progetto molto facile da realizzare e quindi anche le principianti possono cimentarsi in questo progetto di cucito creativo Non è assolutamente difficile e vedrete seguendo passo passo il video che riuscire da realizzare anche voi il Babbo Natale Loggabin Per realizzare questo piccolo progetto natalizio avete bisogno innanzitutto di un quadrato di lato 6 cm ritagliato da una stoffa, possibilmente di colore chiaro, perché questa sarà la faccina del nostro Babbo Natale In questo caso io ho scelto un rosa Poi abbiamo bisogno di strisce di tessuto con fantasie natalizie Queste strisce sono alte 2,5 cm Quindi io ho scelto in totale 6 fantasie differenti però voi ovviamente scegliete quello che avete a disposizione in casa tra cui una bianca, perché questa poi sarà la barba del nostro Babbo Natale Anche in questo caso se non avete il bianco non fa nulla e utilizzate una fantasia natalizia di colore diverso Poi abbiamo bisogno di pochi centimetri di un nastrino perché questo sarà il cappio del nostro piccolo Babbo Natale e poi abbiamo bisogno di un quadrato di stoffa per andare a formare il cappello del Babbo Natale e poi un altro quadrato che andrà a costituire il retro Infine un quadrato di imbottitura che è la stessa imbottitura che utilizziamo nel patchwork o anche di un tipo diverso come ad esempio un filtro K oppure un vecchio asciugamano o quello che avete in casa e che potete recuperare allo scopo Nel sito cucireammacchina.com trovate la pagina dedicata a questo progetto e quindi nell'elenco dei materiali e degli strumenti trovate le misure precise e i materiali descritti nel dettaglio in modo che possiate poi recuperarlo in casa facilmente Per la realizzazione di questo Babbo Natale che avrete già visto in rete sicuramente più e più volte perché è un progetto molto conosciuto si utilizza la tecnica del Log Gabbin Chi ha acquistato il corso base di patchwork facile sa a che cosa mi riferisco quindi è una delle tante tecniche applicate all'interno del mondo del patchwork per creare i blocchi In questo caso è molto molto semplice quindi vi faccio vedere nella costruzione come andiamo a procedere in modo molto veloce e intuitivo quindi si tratta di andare a cucire con ogni striscia di stoffa un giro intorno a questo quadrato centrale fino ad esaurire tutte le strisce che abbiamo a disposizione Quindi iniziamo con il bianco perché questa sarà la barba del nostro Babbo Natale quindi se avete il bianco tra i vostri colori iniziate con questo Potete lavorare tranquillamente questo progetto con il piedino standard della vostra macchina altrimenti potete montare il piedino patchwork io utilizzerò questo Allora partiamo quindi dalla prima striscia posizionate il quadrato centrale con il diritto verso l'alto quindi questo è il diritto segno una D e poi posizionate dritto contro dritto la striscia sul lato in questo modo qua vedete e andiamo a spillare adesso vi faccio vedere un modo molto veloce di fare il Loggabin senza andare a tagliare ogni volta le parti quindi adesso faccio la cucitura qui ecco qui ho fatto la cucitura taglio il filo tolgo gli spilli e poi cosa faccio? prendo la striscia la porto in alto la faccio corrispondere qui con il lato ecco qui e qui la piega deve corrispondere con l'altro lato e poi taglio quindi senza andare tutte le volte a misurare apro quindi la striscia e questa è la prima adesso vado ancora avanti con lo stesso colore quindi dritto contro dritto la posiziono qua quindi che parta esattamente dalla striscia che ho applicato e vado anche qua a spillare anche qui faccio quindi la cucitura della striscia al quadrato ecco qui ho fatto l'altra cucitura quindi ancora taglio il filo allineo la striscia e vado a tagliare la apro ecco qui e vado ad unire l'altra quindi sempre sull'altro lato la posiziono a filo spillo e cucio ecco qui e cucio quindi qua sull'altro lato ecco qui anche questa è cucita quindi vado a tagliare apro e vado a cucire l'ultima striscia quindi sempre dritto contro dritto ecco qui ecco qui spillo e cucio qua l'ultimo lato ecco qui ho già tagliato la striscia quindi apro questo è il nostro primo giro e questa sarà la faccina del babbo natale e questa intorno sarà la parte della barba quindi adesso stiro stiro e vado con la seconda striscia lavorando nello stesso identico modo quindi parto da un lato dritto contro dritto e vado a costruire tutto intorno la seconda striscia con la stoffa natalizia di quello che poi sarà il vestito del babbo natale io riparto in corrispondenza della prima di inizio di primo giro però potete partire da dove volete quindi posiziono dritto contro dritto la seconda striscia e faccio esattamente quello che ho fatto nel primo giro ora considerate che man mano che vi allontanate con i giri vi servirà una striscia più lunga quindi adesso cucio qua poi taglio e apro la cucitura esattamente come ho fatto prima ho cuscito quindi questa la vado ad aprire adesso qui sempre dritto contro dritto vado a posizionare l'altra striscia un'altra 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 striscia Ecco qua, questo è il secondo giro, quindi stiriamo, questo è il retro, stiriamo e continuiamo con il terzo, quarto, quinto e sesto, quindi utilizzando tutte le strisce che avete ritagliato, che possono essere anche dello stesso colore. In totale sono sei di questi giri che facciamo intorno al quadrato centrale. Ecco qui, ho terminato quindi il mio quadrato, lo gabin, eccolo, questo è il retro che è stato stirato, quindi in questo modo. Prendo poi il quadrato delle stesse dimensioni del lo gabin, vedete, e lo taglio sulla diagonale, questa è la parte del cappello. Quindi taglio sulla diagonale il quadrato dello gabin e il quadrato della parte che costituirà il cappello. Quindi se lo gabin è ben costruito, tutti i punti di giuntura qui, delle varie strisce, dovrebbero corrispondere. Quindi qua taglio. E taglio anche questo. Adesso vado a posizionare su un triangolo, questo qua rosso, così, dritto contro dritto, e vado a fare la cucitura qui. Io la farò utilizzando il piedino da un quarto di pollice del patchwork, in modo che la parte centrale qui del faccino non si copra molto, però potete utilizzare benissimo il piedino normale che state utilizzando per cucire le strisce. Quindi fate combaciare per bene le due parti, spillate, e poi andiamo a fare questa cucitura. Potete utilizzare anche l'altra parte perché da ogni quadrato di lo gabin ottenete due babi natale. Quindi, anche in questo caso, potete mettere in questo modo e andare a cucire qui. Ecco qua, ho fatto la cucitura qui, anche di quest'altro. Questo l'ho già stirato, vedete? E questo è quindi il babbo natale che inizia a prendere forma. Questo lo aprite, ne avete due. Date qui una stirata, e quindi ne potete formare due. Quindi uno lo lascio da parte, lo finirò dopo, e vado avanti con questo. A questo punto mi serve l'imbottitura e la parte retrostante di questo quadrato. Ecco qui, quindi ho togliato la parte del retro, e ho la parte davanti, e adesso vado ad utilizzare l'imbottitura. Questo è un pezzetto di imbottitura che mi è rimasta da altri lavori. Qui c'è una linea di giunzione, perché vi ho fatto vedere nei corsi, sia del patchwork che dei piedini, che è possibile congiungere le imbottiture per recuperare sempre tutti i vostri ritagli, e quindi utilizzerò questa. Perciò vado a posizionare in questo modo la parte frontale, poi posiziono dritto contro dritto questa, la parte retrostante, e vado a fare una cucitura tutto intorno, lasciando qua un'apertura, perché poi dovrò rivoltare il progetto. Prima però vado a cucire gli occhietti, perché li vado a cucire con un filo piuttosto doppio, nero, ecco posizionandolo in questo modo. Quindi utilizzo un filo nero per fare due punti nodino, qua, e creare quindi gli occhietti. Allora, poi vi faccio vedere questa piccola cosa che potete fare, ma che ovviamente è facoltativa, potete anche non farla. Allora, qui dove c'è la congiunzione del faccino con la parte bianca, e qui al secondo giro, quindi queste uno, queste due, e qui ho tracciato con una penna termocancellabile delle linee di giunzione. Quindi sono andata ad unire questi due punti con qui il vertice, perché voglio fare una cucitura qua, decorativa, e la mia sarà bianca con il filo che ho utilizzato fino ad ora, però se non volete farla assolutamente non fatela. Non è fondamentale per la chiusura del progetto. In realtà la faccio anche per tenere maggiormente unita la parte, questa qua, del Babbo Natale, all'imbottitura. Quindi la faccio anche per un motivo tecnico, diciamo, però non è fondamentale per la realizzazione del vostro progetto. Quindi se volete farla la fate altrimenti no. Ecco, ho preso un filo per l'E di questo genere qua, da ricamo, quindi molto grosso. Faccio un nodo qui ad un capo. Ecco qua, e vado a fare il nodino prendendo l'imbottitura. Quindi tiro fuori l'ago sull'esterno, poi con la sinistra prendo il filo e lo tiro un po' qui, resto morbida. Con l'ago parto da sotto e faccio uno, due e tre. Quindi ritorno vicino al filo d'entrata e fuoriesco. Allora con la sinistra tengo sempre teso il filo, ma morbido, non tirate fortissimo. E con la destra tiro l'ago al di sotto. Così si forma il nodo, vedete? Ecco qua, questo è il retro. E qui chiudete. Ovviamente entrate solo nell'imbottitura. Entrate due volte nel cappio che si crea. Tirate. E tagliamo il filo. Questo era il nodino iniziale. Ecco qui. E ho fatto quindi due occhietti. Adesso vado a cucire queste linee qui. Utilizzate il piedino a doppio trasporto, se ce l'avete, perché è meglio. Dopo aver aggiunto gli occhietti e quindi cucito qui questa piccola decorazione, andiamo ad aggiungere il nastrino. Questi sono 15 cm di un nastrino natalizio. Lo pieghiamo in due, così. E lo andiamo a posizionare proprio qui, sul vertice del cappello. Mi raccomando, lo andiamo a posizionare in questo modo. Cioè la parte lunga deve stare dentro, quindi dalla parte dell'interno della presina. Io utilizzo un po' di colla temporanea, perché così sono sicura che non si sposta. Potete fuoriuscire di qualche millimetro. Potete anche utilizzare una colla come quella, ad esempio, che si utilizza nella cartoleria. L'importante è che temporaneamente questo piccolo cappio resta fermo. Poi lo andate a spillare, qui nella parte interna, in modo che non si sposti. Ecco qui. E poi, dritto contro dritto, andiamo a posizionare quindi il quadrato che abbiamo tagliato per la parte dell'esterno. Quindi lo posizioniamo esattamente così. E andiamo a spillare tutto intorno. Qui poi faremo una cucitura sull'intero perimetro, lasciando però qua, su un lato, un'apertura di 7-8 cm, per poter poi rivoltare il progetto. Ecco qua. Quindi parto dalla linea, qui dell'apertura, faccio tutta una cucitura qua intorno e mi fermo esattamente dall'altra parte. Questo resta aperto. Ecco qui. Quindi tolgo gli spilli e poi vado a ripulire la parte esterna. Vuol dire che vado a tagliare l'imbottitura. Devo tagliare anche gli angoli. Ecco qui. E poi devo andare a ritagliare solo l'imbottitura per togliere l'ingombro dalle cuciture. Quindi ecco qua. Tolgo solo la parte dell'imbottitura, facendo attenzione a non tagliare la cucitura. Ecco qui. La taglio tutto intorno alla presina. O all'ognometto in realtà. Ecco qui. Ho pulito quindi tutta la parte qua intorno. Ho tagliato anche qui dove c'è l'apertura. Qui in particolar modo dove c'è l'apertura vado a stirare un po' la piega. Così me la ritrovo ben ripiegata quando faccio il risvolto. E adesso giro sul diritto. Ecco qua. Attenzione alle spilli che avevamo lasciato dentro. Risvolto sul diritto e vado a sistemare gli angoli. Con un ferro da maglia, tirate fuori bene gli angoli. Ecco qui. Adesso dobbiamo andare a chiudere l'apertura. Questa necessariamente, mi dispiace per chi non è appassionato di punto nascosto, va chiusa con il punto invisibile a mano. Perché non c'è un'altra possibilità. Ecco qui. Dopo aver chiuso l'apertura, quindi a mano, stirate. Ecco qui, questo è il babbo natale che abbiamo completato. Adesso l'ultima parte è quella di arrotolarlo, così, dalla parte del cappello. E di andare a cucire a mano questa parte qua. Quindi con un punto nascosto, chiudiamo questa parte, in modo che poi il nostro babbo natale resti pronto in questo modo qua. Ecco, scegliete un filo in tinta e poi fate un nodino e semplicemente prendete qualche millimetro di stoffa da un lato e qualche altro dal lato opposto e cuscire così. Questa parte del filo la mettete dentro e andate avanti così e chiudere questa parte. Ecco qui, ho finito di cucire qua sul retro. Questa è la parte del cappio e questo è quindi il babbo natale logapin che potete fare nei colori, quindi, che volete. Io ho scelto il verde, però potete fare i colori che volete. Ovviamente abbiamo già detto che da un progetto ne vengono fuori due, da un quadrato, quindi saranno due babbi natali uguali. Se volete che invece siano diversi, potreste, nel momento in cui andate a formare lo gabbin, utilizzare strisce di un colore per una parte e strisce di un altro colore per l'altra parte in modo che poi quando lo andate a tagliare e a separare per avere i due babbi natale saranno di colori differenti e non li avrete invece dello stesso colore. Questo devo terminarlo. Siamo arrivati alla fine del tutorial. Se ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale. Inoltre, sul mio blog, cuciramacchina.com, trovi centinaia di tutorial gratuiti di Cuscito Creativo. Puoi iscriverti alla newsletter per ricevere il corso gratuito alla BC del Cuscito Creativo e iniziare a cucire da subito. Trovi tutti i link in descrizione. A presto, ciao!